Ho parlato anche ieri, fa un po' fatica ad ammettere questi primi contatti, soprattutto via social, attraverso appunto i social che già risalivano al dicembre dell'anno precedente, a dicembre del 2021 e che dopo si erano sostanziati in questo primo contatto per il coltello e poi proprio qui a Cattiepola, a Portotolle, i due si erano visti nel marzo, proprio per lo scambio di questo lungo coltello che lui diceva di aver trovato appunto nelle campagne, lo abbiamo mostrato anche in un'intervista recente che abbiamo fatto ad Andrea, questo coltello che Greta, lo racconta anche lo stesso Gabriele, voleva regalare al figlio di Gabriele, però insomma bambino, quindi la cosa non era veramente per la quale, quindi poi c'è la restituzione di questo coltello. Questo diciamo è il primo momento a marzo in cui i due si incontrano, ma già nei mesi precedenti, tant'è che nelle chat ci sono lo scambio di auguri, ci sono tutta una serie di altri contatti precedenti e poi si rivedono di nuovo quei giorni di giugno. Eppure lui se l'ha raccontata per bene allora. Ma lui diciamo da questo punto di vista, quando gli viene chiesto appunto la tipologia del rapporto che aveva con Greta, lui ha sempre detto ma noi avevamo diciamo l'amore per la musica, eravamo amici, poi di fatto, e questo è il motivo per cui lui è stato iscritto per la prima volta nel registro, e forse anche adesso, lui di fatto nasconde tutta una serie di messaggi invece in cui lui dice, per esempio, mi sono innamorato di te, mi dispiace, l'ho detto agli altri, si è saputo. Però questo appunto per quanto riguarda Andrea Tosi, nel primo fascicolo lo porterà comunque ad un'archiviazione. Adesso viene riscritto nuovamente perché unitamente a questo evidentemente gli investigatori, così come i perlietti, vogliono fare luce su altri elementi. Io adesso vi faccio ascoltare su quello che è Aride, e poi abbiamo saputo di Andrea Tosi, la prima intervista che ha fatto con noi. Così noi andremo a vedere e a spulciare una dopo l'altra le bugie che ha raccontato a noi e al nostro Edoardo. Riccardo e poi Barzan con l'intervista. Sì, volevo porre una domanda a Barzan perché sento una necessità proprio giornalistica, perché all'interno di questa confusione assoluta che si crea e di contraddizioni, il tema degli esami sfugge un attimo, nel senso che se vengono presentate questi due esami di due persone, un'amica, e vengono in qualche modo anche visivamente comparati, questa comparazione deve avere un senso. Nel senso che avessero lavorato insieme, come sembrava di supporre all'inizio, ma così non è. Che senso ha avvicinare, confrontare queste due analisi e soprattutto queste due analisi, specifichiamolo bene, erano state fatte dalla stessa dottoressa che poi è stata radiata? E per quale motivo è stata radiata? Perché se no non ha senso, ci sfugge la razza. Barzan? Guarda, è eclatante questa cosa che ci hai raccontato. Ecco, voglio precisare per l'inattendibilità delle due analisi, perché questa amica di Greta, è la stessa Greta che spinge l'amica, guarda, fai pure tutti, porto da questa dottoressa di Milano, che non voglio fare nomi, ma ci sono state anche delle puntate in altre trasmissioni televisive d'inchiesta, in altri canali, che è una dottoressa appunto che non crede alla medicina, quindi parlava dell'esficacia della terapia scellante, il self-food, i soggetti affetti da intossicazione. Ma chi porta Greta da questa dottoressa? E perché Greta porta l'amica? Che senso ha? E perché Greta porta l'amica? Perché voleva avere un'ulteriore conferma che non si trattasse appunto di una, che si trattasse di una dottoressa e finalmente ho trovato questa dottoressa che mi ha riscontrato questa intossicazione da piombo e che effettivamente poi in altre analisi non era appunto non era... Pazzarmi, scusi, se io delle analisi sballate non porto un mio amico, ci aiuti a capire un mio amico dallo stesso dottore a fare gli esami per dimostrare qualcosa? Forse Greta pensava che fosse l'unica che aveva capito realmente quello che era il suo stato, perché le altre analisi probabilmente erano nella norma... Ma l'amica che c'entra? Posso spiegarlo io? Se non lavoravano nel nostro posto... ...se effettivamente queste analisi fossero attendibili o meno, ma non c'è un'attendibilità delle analisi. Simone, vai! Guardate, Greta si faceva accompagnare in macchina anche da me, io sono andato diverse volte da questa dottoressa che ha studio a Milano, e anche a me Greta voleva fare questi esami, però io da fratello l'ho mandata benevolmente a quel paese per cui mi sono rifiutato. Mentre questa amica si è fatta convincere da Greta a fare questo esame, anche se non aveva nessun sintomo l'amica e stava benissimo, e sta ancora benissimo per fortuna. Però Eleonore ha fatto questo esame e Greta voleva che si sottoponesse anche essa alla stessa cura di Greta. Tanto è vero che quando poi si rifiuta questa amica e dice no, no, ma io non faccio niente, io sto bene, Greta si arrabbia con lei, insomma, hanno una lite perché non voleva farsi questo efflebo. Insomma, vabbè. Quindi il motivo era fondamentalmente che si è accompagnato Greta a Milano, come l'ho accompagnata io, come l'ho accompagnata mio fratello, e anche il fidanzato in un ultimo periodo. Allora adesso andiamo a parlare, ok, molto chiaro, grazie, andiamo a parlare di Andrea Tosi. Noi siamo andati a spulciare l'ultima, cioè la prima intervista e l'ultima, ovvero perché Andrea Tosi, così subito, dopo la scomparsa di Greta, ancora non c'era l'indagine per omicidio, ancora si pensava che Greta si fosse allontanata, tutti puntavano il dito solamente contro Andrea Tosi, Andrea Tosi ci ha raccontato delle cose. Ma io me lo ricordo molto bene, Edoardo. Lui diceva chiaramente due cose, principalmente. Una è che lui aveva conosciuto Greta da poco e che non voleva passare la notte con lei, stare con lei la notte perché lui non voleva avere amicizie. fino a che si stava al bar, si beveva una cosa insieme, ok, però dopo invece Greta gli aveva chiesto di stare insieme quella notte perché aveva paura. Seconda cosa, mi ricordo molto bene che lui aveva chiaramente detto che la conosceva da pochissimo, l'aveva conosciuta su internet, credo. Invece non era proprio così. Allora, ascoltiamola, ce la facciamo a mandare il pezzettino? Vai. Una bravissima ragazza, che aveva voglia di vivere. Guarda che sto male io, eh. Come gli eravate conosciuti? Nei sociali. Tu la seguivi anche quando lei si esibiva? Sì, l'ho vista. L'ho vista quando lei faceva musica. Quando lei ha visto che io sono appassionato di ACDC, KISS e tutta la musica rock, no? Io sono la batteria, ok. Quasi quasi si poteva fare un gruppo insieme. Però lei è sparita, non è colpa mia. Tutti mi dà colpa a me. Perché oggi Andrea Tosi è indagato? Che cosa ha raccontato all'inizio e perché il suo racconto non è più credibile? Tutta questa intervista, l'altra parte, la manderemo dopo la pubblicità. Vi aspettiamo. Colesterolo? Chilocal Colesterolo ama il tuo cuore e la tua linea. Chilocal, una compressa al giorno per l'equilibrio del colesterolo e del peso. Chilocal Colesterolo, da Puffarma in farmacia. Buona spesa a chi ama la convenienza. Da MD c'è il tutto a un euro. Ad esempio, due confezioni a scelta di pomodori gustato, pelati o polpa, a un euro. MD, buona spesa Italia. La sfida è impossibile? Illuminare la pelle mentre rimuovo il make-up. Acqua micellare arricchita con vitamina C. In un gesto, non solo deterge e strucca la pelle, ma la rende più luminosa e uniforme. Molto più che uno struccante. Da Garnier. Ehi Conad, portaci in vacanza. Con Conad puoi fare centinaia di viaggi, weekend, tour, soggiorni ed esperienze in posti incredibili. Inoltre hai fino a 300 euro di sconto sul tuo prossimo viaggio di Natale e Capodanno. Tour, weekend ed esperienze uniche. Prenota su viaggi.conad.it Ehi Conad Perché Andrea Tosi ci ha raccontato delle bugie. Dov'era Andrea Tosi la sera, la notte? Era con Greta? O no, la notte prima che Greta scomparisse. E poi? Andrea Tosi conosceva Gabriele Lietti già da prima? Quanto prima aveva conosciuto Greta? L'alibi di Andrea Tosi, come è stato controllato il giorno della scomparsa di Greta e il giorno dopo? L'alibi di Gabriele Lietti, secondo indagato in tutta questa vicenda, indagine per omicidio, è stato controllato il sabato dall'orario in cui scompare Greta, ore 11 del sabato mattina e la domenica mattina? Per ora ci risulta, per ora dico, perché forse noi non sappiamo, non abbiamo altre notizie, però ci risulta che non sia stato controllato. Ora, andiamo per ordine. Caro Lucarelli, che cosa ci ha raccontato Tosi? Eccolo. E invece poi che cosa è emerso? Così andiamo a vedere la sua prima intervista. Andrea, da subito, e questo poi ne abbiamo parlato diverse volte con lui, non ci ha raccontato, non ha raccontato, diciamo, ai giornalisti dell'incontro avuto proprio qui con Greta del marzo. Quello relativo al coltello, perché ce l'ha detto anche ieri in un'intervista che abbiamo realizzato, dice, quella era una cosa che doveva rimanere tra di noi, un regalo che io volevo fare a Greta, che lei poi avrebbe girato appunto a questo bambino di cui prima abbiamo detto. Non ha, diciamo, confermato, ma forse quella è una dimenticanza, non sappiamo, tutta una serie di contatti precedenti via social. Quindi questo è l'altro elemento. E anche questo rapporto che sembra essere stato un rapporto anche, diciamo, affettivo. Il coltello assolutamente sì, è quello che abbiamo mostrato. È un lungo coltello, sembra quasi un rifacimento, come dire, di un'arma, come dire, medievale o qualche cosa da rappresentazione storica, di fatto, che lui ha, lui ha. A casa ha mostrato, ci ha fatto vedere ed era quello che appunto voleva regalare a Greta, che Greta aveva visto proprio attraverso uno scambio di una fotografia dello stesso coltello, proprio via messaggistica, ecco, e per questo lei si era interessata a questo coltello. Andrea Tosi aveva questa disponibilità di coltelli antichi. Che c'entra Andrea Tosi? Che lavoro ha fatto? Ma guarda, è una cosa che... Lui fa il giardiniere e sostanzialmente questo coltello lui racconta di averlo trovato in un campo vicino casa. Ah, ok. In un campo vicino casa nel corso di alcuni lavori. Esatto. Nel corso di alcuni lavori. Io gli ho chiesto se lui avesse altri coltelli, lui con una battuta nell'intervista che abbiamo realizzato proprio ieri ha risposto io gli unici coltelli che ho in questa casa, altri, sono quelli che trovi appunto nei pensi della cucina, quelli appunto da cucina, non ho altri coltelli, perché c'era anche qualche giornale, aveva scritto anche che c'era stato il sequestro di un altro coltello, ma lui ha domanda, diciamo, ha risposto in questa maniera. E poi, insomma, alcune dimenticanze relative ad alcuni messaggi che si sarebbe scambiato con Greta, nello specifico quello che vi riportavo prima, cioè il fatto che lui avesse mandato... Dimmi, dimmi, Edoardo, il fatto che lui avesse mandato... No, no, avesse mandato a Greta questo messaggio dicendo mi sono innamorato di te, ho sbagliato, l'ho detto, insomma, quindi sostanzialmente ammettendo questa affezione nei confronti della rocker che invece poi ha sempre, diciamo, negato. E che è ben diverso da quello che ci ha raccontato lui, però, eh. Poi ha ammesso di essere stato a casa sua la sera prima della scomparsa, cosa che a noi non aveva detto. Questo è un altro punto molto importante. Ieri è un altro punto. Sì, è un altro punto che abbiamo affrontato nell'intervista di ieri, no? E lui lì candidamente ci ha raccontato, dice, sì, è vero, siamo stati a casa di Greta, proprio in questa abitazione, diciamo, quella notte tra il 3 e il 4, ha raccontato anche della telefonata ricevuta da Greta, diciamo, da parte, fatta da Gabriele. Lui dice intorno alle 11, 11 e un quarto, in realtà poi gli atti racconteranno un orario leggermente diverso, intorno alla mezzanotte, mezzanotte e mezza. Però lui, a noi...